Ci bisogna dividersi, tre squadre sono ridivideranno, dopo di che le tre squadre sono i miei bambini Maria Rossi, Alice, Alessandro Giuntini, Edith, Mezzani, Orfi, Gio, e Parni Martina, Polizio, Simona, Rossi, la squadra è uno, e H, la squadra è una squadra, bravi, bravi che non mi avete mai messo quella Martina, bravi, già io voglio bene Guarda due, guarda due, guarda due, guarda due, Dania, Filania, Simo Gretti, Guardina Gentile, Andrea, Martina Bosco, Dani, H, Dedo, 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 D A Vossi, con entusiasmo. Marivino, Salah Pezzuti, Teresa Bosissi, Lele, Nicolo Capelli, Ivan, Colella, Garga, Giovanni, Cimone. Quando ho chi? Siamo in tre? E' uno per squadra! E' uno per squadra! E' uno per squadra! E' uno per Luciano! Tomi, Tomi, non Luciano è di nuovo! A Vissa, a Vissa, a Vissa, a Vissa! E' uno per sacro! Ho vado l'anerea quanto serve! Sento! Ma prima mi ha fatto la mano! Ma prima me lo hai fatto! Grazie.